Ecco un semplice setup per software. Allora, qua ho il gilet tattico, lo in cui, eccolo qui, qua tengo caricatore aggiuntivo per il fucile, pistola, una semplice Glock 17, della HFC, tengo solo una pistola, un'arma di backup, come replica di backup, secondaria, e un caricatore aggiuntivo per il fucile, maschera integrale, raccomandata, perché è meglio la maschera integrale, invece che gli occhiali, queste con la rete a messe, e poi fucile, fucile all'altra a ad altra colla, che ho un G36 della Ginkong, che tutti iniziano con un G36, perché ce l'hanno tutti, però tuttavia potete variare, potete prendere anche, se non volete per farsi G36, potete prendere anche un G3 SAS, un M4, una K, un MP5, di tutti i modi. La pistola non è tanto obbligatoria, c'è una Glock, la Beretta, la Colt 1911, MK23, può essere anche una pistola mitragliatrice, tipo come un UZI, un Mek 11, un MP7, una Scorpion, un MP5 Curse, quello che volete, o un fucile a pompa, quello che vuole, a molla, quello volete, prendere, oppure, prendete anche, oppure invece del G36 potete prendere anche, se volete giocare la sniper, un cecchino, quello che volete voi, come a me secondaria, la MK23, è il mio pistola scelta dello sniper, ed eccolo qui, ed eccolo qua, il mio setup semplice, avendo un fucile, con il caricatore aggiuntivo, una pistola come arma di backup, il gillet tattico e la maschera integrale. Ciao, alla prossima!